Giuffrida, Rondinelli, cerca lo scambio con Giuffrida, bravo Catanese a fare una finta, ancora Catanese, Catanese allarga a sinistra, trova un'autostrada per Cascione che sbaglia il dribbling, sbaglia il dribbling Cascione. Deludente, l'attenzione, se ne può andare il numero 13, azione gol per il Foligno, attenzione, sacca di testa, evita il secondo gol, evita il secondo gol su questo contropiede micidiale del Foligno da parte di Verruschi, no, il nuovo entrato, numero 13, Guarracino. A tu per tu, con forte, forte con i piedi, ha salvato questo tiro in porta, la palla si è impennata, stava andando sempre nello specchio della porta, c'è il recupero di Sacca, contropiede micidiale da parte del Foligno che i dieci uomini stanno tenendo testa alla vigore la mezza e sono andati vicino al secondo gol, attenzione, esce forte di pugno, la palla esce dall'era di rigore, c'è Mangiapane.